buonasera dall'andromaggi rovighi in diretta siamo a portoviro in località donada per un'altra tappa di miss mamma un concorso spettacolo di bellezza e simpatia organizzato da tema spettacoli in questo caso in collaborazione con la proloco di donada e il sostegno del comune di portoviro l'evento il prossimo anno compierà ben 30 anni e da quest'anno è diventato un appuntamento fisso anche delle date estive polesane un successo tenuto grazie anche alla collaborazione come media partner della voce di rovigo di delta radio e di rovigo in diretta complimenti come sempre a paolo teti ideatore del concorso e patron della manifestazione oltre ai giudici della serata luciano siviero michele capanna stefano per munian le rappresentanti della proloco di donada che ancora una volta è riuscita a portare migliaia di persone in piazza durante tutte le manifestazioni estive la serata presentata da paolo de grandis con al suo fianco barbara pedizzari ha visto vincitrici per quanto riguarda la fascia rovigo in diretta sandra de caro per la fascia di delta radio roberta salvatori e per la fascia della voce di rovigo ed isa ferro di portoviro grazie a tutti 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 tutta quest'estate, sono stati bravissimi, vorrei premiasse lei, che rappresenta tutta la Prologue. Benissimo, allora, abbiamo adesso le tre vincitrici, quindi cominciamo con la prima classificata della categoria Evergreen, Rovigo in diretta, abbiamo la numero 8, Sandra De Caro. Sandra De Caro, la numero 8, bravissima, un monologo bellissimo, elegantissima per lei, questa fascia importante. È giusta, va bene, va bene, va bene, Simone il terrore di mettere la fascia che ce l'avrei avuto, giuro, va bene. La corona adesso? La coroncina, sai che l'altra volta l'ho messa io e la stava cecando? Giuro, non lo faccio più. Un applauso per la nostra vincitrice di selezione, Evergreen, Sandra De Caro. Grazie, un bel applauso, voglio sentirlo, grazie. Complimenti, complimenti, resta qui con noi, Sandra, che poi faremo le foto di rito. Allora, con la prima classificata Gold Delta Radio, abbiamo la numero 3, Roberta Salvadori. Complimenti, complimenti, complimenti. Queste fasce mettono sempre in crisi. Ce l'abbiamo fatta due passi in avanti. Adesso abbiamo la vincitrice di selezione 25-45, l'ultima premiata di questa serata. Ci servono altre due persone. Io posso fare sempre io, perché la tornella le voglio avere. E i fiori li dai tu, li dai tu. Perfetto, come prima classificata la voce di Robigo, abbiamo Elisa Ferro. Alza la musica, Elisa Ferro. Confidenti, gioca in campo e staglava. Perfetto, gioca in campo e staglava. Perfetto, gioca in campo e staglava. Grazie per la visione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.